Musica Benvenuti ragazzi sono Raxor e bentornati in questo nuovo video qua sul mio canale Quest'oggi ragazzoni miei siamo qua su Fortnite Battle Royale E andremo a fare una partita però atterrando in un posto particolare Infatti c'è un forziere posizionato in un punto preciso della mappa E sono sicuro che il 90% di voi non erano a conoscenza di questo posticino Allora raga eccoci qua in partita E questo forziere misterioso lo troviamo esattamente alla destra di Bosco Bladerante Dove ho messo il pick come vedete è proprio nel bordo estremissimo della mappa Quindi è normale che molti non lo conoscono proprio per questo motivo Allora ovviamente speriamo che ci sia la cassa Perché comunque non è detto che si trovi ad ogni partita e quindi direi che possiamo andare Ok raga come possiamo vedere si vede un bel camioncino Che sta per proprio cadere fuori dalla mappa E il forziere è proprio sopra quel camioncino C'è direi Sì raga esatto Guardate un po' dove è questo forziere come vedete è proprio Cioè in realtà se uno non va apposta qua non può sapere dell'esistenza E appunto questo forziere Quindi ora partendo da qua iniziamo a fare la nostra partita E vediamo tanto qua speriamo che non cada nulla Ok beh dai neanche troppo male Se vi fosse uscito uno scaroro qua sicuramente sarei cazzita Allora iniziamo col prendere un po' di materiale Ok Allora ovviamente raga ci aspetto una partita molto tranquilla Anche perché comunque il bus è passato abbastanza lontano da qua Poi a parte questo questa è già una zona di suo poco Tappicata diciamo Intanto vediamo se sopra questa volpe troviamo qualcosa Ecco sento il suono di una cassa Qua c'è un pompa perfetto Per ora raga il minimo indispensabile ce l'abbiamo Se ora ci dà degli scudi niente Vabbè dai comunque per ora va bene raga Allora raga direi di andare Uh attenzione al bosco blaterante qualcuno c'è stato Oppure è ancora lì Ah c'è anche un gnomo qua vicino Mi sa che è sotto questa tenda Ecco infatti dai eh E un altro gnome è andato Bene andiamo verso la safe va Oh visto 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 Vabbè dai già comunque i danni li ho fatti Purtroppo ora con l'ultimo aggiornamento non li ho tolto Ok E il primo finalmente è andato raga Hai degli scudini bro No eh Nada Però hai Aspetta questo che mi interessa Questo che mi interessa E poi in realtà Vabbè il cecchino Sì Prendiamolo eh Anche se questo qua non è che mi faccia impazzire però Prendiamolo lo stesso E per il resto Direi che siamo a posto Spari 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 Proprio qua davanti raga Oddio ma che è ho tutti qua Buono Però ragazzi non altro Ah eccolo lì Buono Andato Allora la safe La Sì la safe è qua davanti Quindi a posto Intanto Mi curo al volo Non so se hanno un medikit Ma intanto le vende Ovviamente le uso Allora vedo già uno scudo Bene Poi Questo lo prendo assolutamente Molto velocemente raga Lootiamo tutto Intanto questa qua continua a togliere uno Quindi per ora andiamo tranquilli Qua prendiamo assolutamente questo Poi Direi che scudini Non ce ne dovrebbero essere Quindi Mi faccio al volo questo qui Spero di aver visto bene tutto raga Perché sono abbastanza di fretta E non vorrei che mi sia sfuggito qualcosa Ma direi di no Apparentemente almeno Adesso Spero che non mi stia aspettando nessuno qua fuori Ah qua c'è qualcosa Aspetta Vabbè Nulla di mio interesse raga Ok Fortunatamente raga Con questo scudo almeno ci siamo rifatti Oh mio dio Quanto è lontana la safe Però se non mi sbaglio Dovrei aver preso una jump Spero Ricarichiamo tutto Un lama Porco un lama Tranquilli praticamente Assolutamente Ci prendiamo questo scudo Ottimo raga Eh sono due Quindi uno mi sono capito Anzi 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 Questo qua Direi che Non mi serve più Facciamo così E qua voglio Sono full di materiale E dovremmo essere a posto così raga Ok 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 Ci siamo ci siamo Tra l'altro Ho preso un'altra jump Quindi eh Meglio di così Allora sperando che No vabbè ma qua non ci dovrebbe essere nessuno Per forza Siamo proprio Lontanissimi Dalla safe La vedo alquanto improbabile Che qualcuno sia ancora qua con me Quindi andiamo ancora su A voglia Andiamo un sacco su Visto che si è scatta Una bella stradona Da fare Tanto il materiale Ce l'abbiamo Eeeh Non abbiamo problemi Raga assolutamente Ok direi che da qua può bastare Quindi facciamo così 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 E via Apriamo subito Così Così Vediamo raga Dai ovviamente l'obiettivo è portarci a casa questa partita Tanto qua ricarichiamo tutto Sbancava solo il cecchino Ok Eeeh Oh Minchia 188 metri Dai raga Bella sta cecchinata Era fermo eh Quindi nulla di troppo pazzesco Però Sinceramente pensavo di non prenderlo inizialmente Minchia lo scarto Aspetto Raga cosa Cosa diavolo Oh Visto Eh raga per ora Tolgo lo scudo per forza Allora bro Se ti fai vedere Guarda Magari Minchia la c'è anche la cima da conquistare No aspetta 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 Andiamo da lui Così Oh raga Praticamente in questa partita Stiamo completando gli obiettivi eh Alla fine Abbiamo trovato prima lo gnomo Ora qua un'altra cima Sperando che questo qua non ci dia problemi Magari cerchiamo di non switchare arma Per Non farci notare Where are you bro? Forse è già sceso per andare in safe Ok Cima presa E tu Dai colpi Bello Aiuto Veloce Allora raga Secondo me Sopra quella montagna Ce n'è un altro Sono Abbastanza sicuro in realtà Qua direi che non mi serve niente Legno ce l'ho Mattoni ce l'ho Ok Ho visto Vai 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 Buono Buono Beh anzi raga Per ora abbiamo fatto anche più kill del previsto Oh maronna mia Sinceramente di arrivare a 6 Atterrando là Non me lo sarei aspettato Quindi Per quel che mi riguarda Per ora Abbiamo fatto anche troppo Allora Mini scudi Ottimo Eeeh Però il pompa Raga mi sa che lo lascio So che molti Eh S Uno solo So già che mi ammazzerete Per questa scelta Però regà con quel pompa Non mi trovo proprio Vi giuro Allora Siamo in 4 Dai Qua Attenzione Perché Ce n'era uno qua Oh là su un'altra cima Oh vai Medikit 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 No Ah Ok Ok è andato Non me ne ha inchitato Buono 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 raga Buonissimo Tra l'altro Questo qua Ha pure lasciato Degli scudini Se non ho visto male Oh merda Si sta curando Dov'è? Cazzo raga Era Era one shot Bastava niente Per ammazzarlo Però Ma si è curato Uh Uh Preso Taglie 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 raga Siamo rimasti Uno contro uno No Raga Raga Comunque 8 kill Partendo Da la Vi giuro Che non me lo sarei mai aspettato Ok Carichiamo tutto Allora Io potrei Jumpare In safe In realtà Forse è la cosa Che conveniente Ok Forse è un altro gnomo Però direi che non è questo momento Per pensare A lui Oddio è qua Buono 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 raga Buono Tanto si blocca tutto Così a caso Ok ripartito Raga Cioè una partita Molto tranquilla Però di fare 9 kill Partendo Da quel punto Non me le sarei davvero mai aspettate Vi giuro Anche perché comunque Il bus è passato lontanissimo Quindi ci sta raga Non è stata neanche una partita Ma brutta Da vedere Penso Quindi raga Il forziere nascosto Ve l'ho fatto vedere Una partita abbastanza carina E' uscita Quindi spero che il video Appunto vi sia piaciuto Se è così Mi raccomando Evite a lasciare un bel pollice In su Iscrivervi al canale Se non l'avete fatto Noi come sempre Ci becchiamo alla prossima Con un nuovo video Bella Grazie a tutti